0-0 partita a scacchi, primo tempo Olanda, Argentina, Messi imbrigliato, Robben, Schneider e Van Persie non hanno toccato palla ho buona prova di Higuain e anche qualche giocata di Messi che è andato ogni tanto a retra, soprattutto nella finale del primo tempo per prendere dei palloni e per creare un po' di pericolo, ma nessuna palla-goll, tranne una punizione di Messi ma neanche si può definire palla-goll partita che si gioca a scacchi, sembra che l'allenatore dell'Olanda, Vangala a questo punto, punti allo 0-0 supplementari e di arrivare ai rigori ricordiamo che ai rigori può schierare la sua petina fortissima, il suo portiere para-rigori che ne ha parati due contro la Costa Rica mandando l'Olanda in semifinale con l'Argentina partita equilibrata, grande traffico a centrocampo, alcuni scontri anche pericolosi Mascherano cade a terra con un colpo alla testa anche un po' di spavento insomma una partita noiosa, diciamolo tutto qualche piccola giocata di Messi, non è il Messi stratosferico del Barcellona però per il momento è tutto io, si può, si può, diciamo si può prevedere qui ne parlavo anche con altri colleghi si può prevedere che sia i rigori supplementari e anche i rigori che potrebbe essere il gioco dell'Olanda a meno che di una giocata o di un errore da una parte o dall'altra a dopo